Buonasera, seconda edizione del telegiornale del Piemonte. Dunque l'avete sentito, la politica è in primo piano con il Consiglio regionale finito oggi in bagarre. La tensione politica, il clima difficile di rimborsopoli. Dopo l'intervento del Presidente Cota, Franco Maria Botta di Fratelli d'Italia ha tentato di avvicinarsi a Mercedes Bresso impedendole di fare il suo intervento. Nella parapiglia si è sfiorata la rissa, vediamo la cronaca di questa giornata particolare con Simonetta Rò. Rimbalza nei titoli dei siti web e delle pagine internet con titoli che parlano di rissa, botte e incontro di wrestling, la seduta odierna del Consiglio regionale del Piemonte. Nessuna telecamera in aula, ma i fotografi di stampa e pubblica immortalano la sequenza poco edificante. Dopo l'intervento, anche questo non calendarizzato del Presidente Cota sulla vicenda rimborsopoli, ha preso la parola a Mercedes Bresso. Immediata l'azione di Franco Maria Botta, capogruppo di Fratelli d'Italia, indagato, che l'aggredisce verbalmente. Botta esce dal banco e si avvicina. Il capogruppo del PD Aldo Reschigna si alza e difende l'ex Presidente. Intervengono per separarli le ardi di Forza Italia il Vice Presidente Placido. Botta, che poco prima aveva definito i giornalisti che si sono occupati dell'inchiesta sui rimborsi topi di Fogna, scivola a terra. Bresso rinuncia a parlare e il Consiglio si ferma. Dal centro-sinistra una condanna unanime dell'episodio che si aggiunge alle considerazioni politiche su una legislatura che, per le opposizioni, è arrivata a capolinea. Un incidente che sarebbe stato meglio evitare, ha commentato il Presidente del Consiglio, Valerio Cattaneo, che ha aggiunto la tensione alta. Un epilogo che non giova all'Assemblea regionale dopo l'apertura della seduta dedicata dal Presidente Cota proprio all'inchiesta sui rimborsi facili, dove aveva difeso l'istituzione e sottolineato il suo impegno a proseguire fino alla fine del mandato.